Stiamo parlando di sociale, stiamo parlando di cose nobili, quindi quello che ho fatto ieri sere era un altro film già cosa, lascio perdere, il mio cuore continua a essere oltre che del Monza anche del Milan perché non posso dimenticarlo e parliamo di sociale e non di una partita di calcio. Capisco che il vostro interesse, adesso non esageriamo, un rigore dato o non dato è una cosa che ci può stare in gol di Montari e qualche cosa al di là del bene e del male. Matri risponde, lo conosco da bambino, quindi Matri è un ragazzo fantastico, non verrà al Monza perché noi siamo coperti ma io Matri lo conosco da quando ero un ragazzo, i suoi genitori facevano fatica perché arrivavamo dall'Odigiano e facevano i mercati a mattina presto e poi c'è una cosa che mi stupisce di Matri che lo guardo sempre. Io ho un periodo che vado spesso ad Ibiza e allora i calciatori famosi viaggiano da Ibiza a Formentera con qualunque tipo di mezzo mobile. Matri che è un ragazzo con la testa sulle spalle, l'ho visto ripetutamente lui e la sua bellissima moglie sui traghettini che ti portano da Ibiza a Formentera e da Formentera quindi vuol dire che assale in zucca. Noi abbiamo tanti attaccanti e qui perché è amico di Christian Brocchia ed è amico mio perché è stato nostro giocatore potrà stare sempre qui ma vi assicuro che abbiamo un reparto offensivo ricchissimo, abbiamo 5 attaccanti più tutte le mezze punte quindi non lo tessereremo ma lo abbiamo ospitato e con molto piacere sia io sia l'allenatore.